Allora, siete pronti, belli? Preparatevi, il prossimo spincolo è il vostro! Dov'è? Non lo vedo! Eccolo lì, lo vedo, lo vedo! Vuoi dire quel turbinoso vortice di terrore? Proprio quello, bello! Ecco, ti pareva! Per prima cosa, scegliete un compagno d'uscita! Anche tu ce l'hai, un compagno d'uscita? Sì! Bene, adesso Guizzo vi riassumerà le modalità per una corretta tecnica d'uscita! Buon pomeriggio a tutti! Oggi faremo un lancio fantastico! Ok, appena beccate la parete, fate un caffè! La curva sul fondo è tosta, quindi fate attenzione! E ricordatevi, ripate, rollate e poi roppate! Sta cercando di dirmi qualcosa, me lo sento! Sai, sei proprio carino, ma non capisco cosa stai dicendo! Ricomincia da capo! Ora salta, Medusa! Vai, 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 vai! È stato bello! Mi sono divertito un sacco! Ehi, guarda! Tartalughe! Ha ha! Ottima esecuzione! Ora giratevi dall'altra parte e nuotate sempre dritto fino a Sydney! Su con la vita, bello! Su con la vita e grazie a te, bello! Porta i miei saluti a tua figlia, ok? Ciao, ci vediamo, belli! Ciao a tutti! A Nemo sarebbe piaciuto tanto! Ehi, oh, ehi, scorza! Scorza, dimenticavo! Quanti anni hai? 150! Sono ancora un ragazzino! Segui l'onda, bello! 150! 150! 150! Devo ricordarmelo! Wow! Entriamo lì? Sì! P-Sherman 42 Wallaby Way Sydney? Sì! Dobbiamo solo nuotare dritto! Nuota e nuota, zitto e nuota! Tori! Tori!